In questo nostro spazio continuiamo a parlare di sanità, di sanità mentre andiamo verso le festività natalizie e lo facciamo con la dottoressa Carmela Recigno che ringraziamo per essere ritornato con noi ma dottoressa come dicevamo è un bel po' che non ci si vede, buonasera Buonasera, buonasera, grazie per avermi invitato Con lei per chi non ricorda la precedente chiacchierata parliamo nella duplice veste Lei è medico ma è anche un politico rappresentante di Fratelli d'Italia Allora facciamo un po' il punto della situazione, sappiamo che lei abita nel Salernitano se non vado errato Com'è la situazione dal suo punto di vista, come stiamo reggendo da un punto di vista di strutture sanitarie a questa ondata prenatalizia? Bene, io intanto non abito nel Salernitano ma ci lavoro nel Salernitano ma abito a Napoli, nel Napoletano Detto ciò, la situazione da un punto di vista degli ospedali, le dice la situazione sanitaria? Esatto, sì Allora, c'è stata inevitabilmente questa seconda ondata e nonostante ormai l'avessimo previsto Non è cambiato nulla, ci siamo ritrovati nuovamente come se fosse stata la malattia, la scoperta della nuova malattia Esattamente come un po' di mesi fa, nella prima ondata Il sistema sanitario chiaramente ha retto nella prima ondata perché siamo stati in un periodo molto lungo di lockdown Quindi siamo stati bravi noi a stare in casa Nella seconda ondata invece diciamo che ci ha trovato ancora più impreparati la seconda ondata Paradossalmente avremmo dovuto essere più pronti, avremmo dovuto affrontare meglio questa seconda ondata Invece è stato esattamente il contrario Ma la cosa che mi fa sorridere è che proprio ieri sono stata a fare delle spese di necessità in giro E ho visto che i centri commerciali sono comunque frequentati La gente per strada c'è come se non stessimo in lockdown Noi non ci siamo di fatto, però come se non fossimo con delle limitazioni E la cosa più divertente è che, è paradossale direi, è che stanno riaprendo tutto ma stanno chiudendo gli ospedali Sembra strano ma è così Questo è paradossale dottoressa anche perché poi noi vediamo, le visitiamo da remoto con i nostri servizi Ma vediamo anche le altre emittenti che ci consegnano una figura e una presenza di ospedali nel napoletano Che stanno scoppiando di presenza, le code all'esterno E poi invece ci viene consegnata una realtà ben diversa da parte di chi dice tutto a posto e tutto sotto controllo Insomma la verità sta sempre nel mezzo La verità la dice chi le vive le realtà e non chi deve vendere un prodotto e fare marketing politico La verità è che purtroppo nonostante avessimo dovuto prepararci per la seconda ondata Ci siamo ritrovati che negli ospedali non ci sono stati dei percorsi per individuare ancora una volta Gli ospedali covid free e quelli covid dedicati E quindi ci siamo trovati che gli ospedali non covid sono poi diventati covid per l'afflusso di pazienti positivi E quindi chi poi non era covid non sapeva in quale ospedale andare a curarsi E' successo di persone che si sono recate in pronto soccorso Per patologie non covid e hanno trovato il pronto soccorso chiuso Che non li ha accettati perché avevano pazienti covid Quindi insomma questa promiscuità di ospedali e all'interno degli ospedali di percorsi Non ci ha sicuramente aiutato nelle cure e nei contagi Dottoressa c'è una grande attenzione Ormai siamo diventati tutti esperti, infettivologi, statisti Ascoltiamo i dibattiti eccetera Ci inondano di conferenze stampa, di dati, RT Abbiamo imparato parole nuove come lockdown Insomma siamo diventati tutti espertissimi E adesso stiamo aspettando questa ulteriore dichiarazione di zona gialla Che hanno promesso che potrà arrivare domani, domenica, settimana prossima Lei che cosa ne pensa? Io penso che è tutta una grande buffonata Ora è una moda, i colori, zona rossa, zona gialla Questo è tutto un metodo per coprire e per non far venire fuori Quella che poi è la realtà Il problema non è la zona rossa, la zona gialla Il problema è che a distanza di mesi dal problema e dall'epidemia Covid Non siamo ancora in grado di garantire all'utenza Cure in ospedali dedicati e allo stesso modo non penalizzare quei pazienti che hanno invece necessità di curarsi E che non sono affetti da Covid Questa è la verità Io penso che il governo ha fatto tanta confusione Che ci sono troppe star in televisione Andassero a lavorare I virologi, gli infettivologi, gli immunologi Ormai sono diventati Chiunque si sveglia la mattina pensa di poter parlare del Covid E dice la sua Ma questo accade perché purtroppo non c'è una direttiva credibile Da questo governo nazionale che la sta gestendo D'altronde mi ha molto fatto sorridere la questione di Arcuri Ormai gli abbiamo dato l'Italia in mano ad Arcuri È commissario di tutto Io ho sentito un'intervista fatta alla sua ex moglie Che è una sua collega giornalista La quale diceva quando gli facevo la spesa La lista della spesa puntualmente non era in grado e sbagliava E allora dico noi ci rendiamo conto in mano a chi siamo? Siamo in mano a chi parla A proposito di Arcuri e di colleghi Leggevo poc'anzi la nota del suo collega Enzo Rivellini Rispetto alle selling che Arcuri si starebbe accingendo a comprare Che non sarebbero adatte all'occasione Quindi anche su questo Rivellini mette i piedi per terra Ed alza le mani per dire facciamo attenzione Di quale altro probabile business stiamo facendo Sì, sì Bisogna stare attenti perché mi sa che questo governo nazionale Ha a cuore tutto tranne che veramente la salute della nostra nazione Purtroppo la poltrona non la mollano Non hanno la dignità di dimettersi Nonostante i fallimenti Ma a lei gli sembra normale che ci chiudono E poi facciamo il bonus per le biciclette? O per il monopattino? Cioè non lo so Secondo lei è una cosa normale questa Secondo lei abbiamo bisogno in questo momento di acquistare le biciclette? Ebbè certo Però adesso faccio un attimo riferimento alla dottoressa che è in lei Lei prima parlava di cure e abbiamo visto come questa corsa al plasma si sta applicando Anche se timidamente Abbiamo visto come sia il Cotugno e il Cardarelli stanno facendo questa grande richiesta Questa campagna di sollecitazione per la donazione Lei che cosa ne pensa da medico? Io penso che sicuramente può essere È una terapia da provare, da sperimentare Perché ha un razionale molto forte Dare il plasma immune significa È come aiutare il sistema immunitario di chi è affetto da Covid A combattere il coronavirus Non abbiamo ancora dei dati scientifici Che ci permettono e ci consentono di dire Che è una terapia che dà i suoi risultati In alcuni pazienti è stato visto che non ha proprio fatto alcun effetto In altri pazienti invece ha dato dei miglioramenti È stato utile Io le dico che ho provato in prima persona l'esperienza Sono stata contagiata E sono stata affetta da coronavirus E le posso dire che ho sperimentato sulla mia pelle Quali sono i percorsi sanitari E mi sono fatta anche un'idea Ora al di là della mia professione di medico Anche come paziente Quindi mi sono ritrovata dall'altro lato E ho sperimentato come non funziona assolutamente nulla Da asintomatica, dottoressa? Non l'ho capito? Dicevo da asintomatica? No, non asintomatica Pauci sintomatica Quindi non ha avuto bisogno di ricovero Ho avuto i sintomi Sì, sì, sì Ho avuto i sintomi Ed è stata ricoverata? No, non sono stata ricoverata Mi sono curata in casa Ma mi sono curata nei tempi giusti E con la terapia giusta Solo perché nessuno si è mai interessato Intendo del sistema sanitario Di quelli che avrebbero dovuto prendermi in cura In carico, nessuno mi ha mai contattato per darmi una terapia Non funziona assolutamente niente Io sono stata 20 giorni in casa malata Ho contagiato anche mio figlio E quindi eravamo in due in casa malata Nessuno ha alzato un telefono e ha detto Questa è la terapia Ci ha chiesto come stavamo Se avevamo sintomi Assolutamente Siamo stati noi ad informare il medico curante E l'unica preoccupazione dell'ASL È stata quella di prenotarci un tampone Perché ormai lei deve sapere che i tamponi Sono diventati un ammortizzatore sociale Poiché il sistema non è in grado di prendere in carico i pazienti Allora li tiene buoni con la prenotazione del tampone La verità è che abbiamo fatto poi questo tampone di controllo a distanza Non abbiamo mai avuto il risultato Perché i nostri tamponi sono andati persi Quindi voglio dire Meno male che ci siamo autogestiti E meno male soprattutto che da subito Io e mio figlio abbiamo fatto il protocollo terapeutico Che io ritengo sia un protocollo terapeutico Che dovrebbe diventare unico E dovrebbe essere quello che Al momento in cui c'è un positivo I medici di base, le usca E tutto quello che si è inventato De Luca In questo momento Dovrebbero prescrivere Invece oggi funziona Che un medico curante Dà la tachipirina Un altro medico curante Bisogna diciamo combattere Per poter avere la prescrizione dell'eparina Ma voglio dire Noi siamo ad un punto in cui Abbiamo capito Qual è la terapia da fare Prima che il virus Possa dare una complicanza importante Come la polmonite interstiziale Che è e può essere Causa di morte Ma non si capisce perché Non si è unificato Questo protocollo terapeutico Io non capisco perché Fanno resistenza A far fare la terapia Agli asintomatici Perché è lì Il nodo della situazione Cioè Se facciamo una terapia adeguata Nel momento in cui siamo Asintomatici o paucisintomatici Allora evitiamo Tutto ciò che può essere Una complicanza del coronavirus Dell'infezione Invece non si capisce perché Niente Stiamo facendo la corsa al vaccino E infatti Questo poi sarebbe stata La domanda successiva Anche perché Non ha azzardo affatto A chiederle di che tipo di ASL Stiamo parlando Perché lei Non glielo dico Neanche sotto tortura Ma non fa la differenza O ASL Napoli 3 O Napoli 4 O Napoli 10 È uguale Glielo posso garantire Ha funzionato così Per tutti E veniamo al vaccino Dottoressa Anche questo La corsa agli armamenti Però abbiamo visto In Gran Bretagna Che c'è stato quel blocco Perché ci sono stati Gli allergici Che hanno reagito male Insomma Allora la verità È che per testare Un vaccino Non per essere sicuri Ma per essere Diciamo Abbastanza sicuri Ci vogliono 3 anni Minimo 3 anni Noi l'abbiamo Diciamo Lo vogliamo Perché è diventato Un altro Ammortizzatore sociale Ma lei si è reso conto Che ogni volta Che il popolo Inizia a scendere in piazza Inizia a A ribellarsi Inizia a non farcela più Esce fuori Che siamo pronti Col vaccino È un modo Per tenere buona La gente Il popolo Per tenerlo calmo Per rassicurarlo Visto che non ci sono Altri metodi Perché giustamente La gente Non si sente Non ha fiducia Di questo governo Di come gestisce L'emergenza L'emergenza E poi vediamo E poi vediamo Poi vediamo Come Come proseguire Come reagisce Io non lo farò Adesso invece faccio leva Sul politico Che è in lei L'altra parte Quella Anche abbastanza Vivace Viste le restrizioni Per annunci Per il Natale Che tipo di Natale Avremo secondo lei Ma io penso Che avremo un Natale Sicuramente Triste Perché È un Natale Che non ci consentirà Di poter Festeggiare Di poter stare Con i nostri Familiari Di poter Diciamo Come sempre Stare in famiglia E festeggiare Io Penso che Dobbiamo Porgere l'attenzione Anche ad un altro Aspetto Che è quello Che non stanno Prendendo in considerazione Tutte queste star Che vanno in televisione Tutti questi Esperti Che è l'aspetto Psicologico Che La Che la popolazione Sta Lo stress psicologico Che la popolazione Sta subendo Io Penso che l'OMS Anche se timidamente L'allarme L'ha lanciato Ha detto Attenzione Iniziamo A consigliare E a non Dietare La Diciamo Certi atteggiamenti Certi comportamenti Perché la gente Sta Veramente Iniziando A non reggere Più Questo stress Quindi Io credo Che sarà un Natale Molto Molto Triste Da questo punto di vista E Credo che Ci vorrà ancora Un anno Per poter Tentare Di tornare Ad una Vita normale E a riprendere Quelle che erano Le nostre Relazioni Noi siamo Degli animali Sociali Ci hanno tolto Il meglio Però purtroppo In questo momento Vista la sanità Che abbiamo Non ci possiamo Consentire Di trasgredire Certe regole Dottoressa Però oltre Lo stress Psicologico C'è anche Un problema Di natura Economica Lì Io penso Che lì Non ci sono Vaccini Che tengano Purtroppo Il danno Economico Io non Credo Che Si possa Recuperare O Se si può Recuperare Con Con delle Azioni Di governo Serie Ci vorrà Tempo Molto Tempo Infatti io Fido Nel prossimo Governo Nazionale Ma secondo lei Tutta La soluzione Dei nostri guai Sta nei 209 Miliardi Del recover fund No Assolutamente No Non Non Credo Che sia Quella La soluzione E Non credo Che sia Quella A Ridarci Né L'economia Che abbiamo Perso Ormai Perché il danno Economico Io penso Che sia Un danno Irrecuperabile Quindi Io Vorrei solo Un atto Di Diciamo Di Consapevolezza Da parte Di questo governo Che ha fallito Sicuramente Questo è un governo Che non durerà E' già pronto Il prossimo Governo Governo Di responsabilità Di unione Però La voce Al popolo Al momento Non gliela daranno Dobbiamo aspettare Ancora un po' Chissà Fratelli D'Italia Nel prossimo Governo Che ruolo Avrà Governeremo Perché lei Ha qualche Dubbio No Io non dico Quello Delle elezioni Questo Di transizione Questo Di transizione Io Guardi Io non Credo La nostra Leader nazionale È stata chiara E ha detto Che non ha Diciamo Intenzione Di Prendere parte A questo governo Di salute Anche se io penso Che non è una cosa Proprio corretta Credo Che Insomma E mi auguro Che Giorgia Meloni Riveda Questa posizione Perché Guardi Quello che Si può fare Governando Non lo si può fare Stando All'opposizione E sostenendo Anche sostenendo Da fuori Un nuovo governo Io penso Che bisogna Mettere in campo Le migliori Menti Politiche In questo governo Di salute Che ci sarà E soprattutto Penso che Conte Deve andare a casa Ma deve andare Molto rapidamente A casa E in conclusione Dottoressa Le chiedo una cortesia Dall'alto Della sua Triplice veste Medico Esponente politico Ma anche come Mamma Siamo in prossimità Delle feste di Natale Mi fa un invito Ai telespettatori Che la stanno seguendo Di mantenere la calma Ma soprattutto Rispettare Quelle poche regole Che ancora ci aiutano Probabilmente Ad andare avanti Con serenità Certo Dobbiamo non solo Rispettare le regole Che ci consentono Di andare avanti E di Salvarci Perché E' questa la verità Noi dobbiamo Essere noi A contribuire Perché il sistema sanitario Non ci garantisce E allora Mantenere il distanziamento Evitare gli assembramenti E lei mi ha chiesto Un appello anche da mamma Stare vicino Ai nostri bambini Perché sono quelli Che in questo momento Stanno soffrendo di più Sembra paradossale Ma è così Sono loro Che stanno soffrendo di più Perché è a loro Che stiamo Facendo venire meno Gran parte Della loro Degli elementi Diciamo Importanti Per la loro crescita Andare a scuola Socializzare Il contatto Giocare insieme Sono cose importanti Per i bambini In un'età Di crescita E quindi In questo momento Loro A loro viene negata anche Diciamo Andare con gli amici Al parco E andare sulle giostre Voglio dire Può essere Una banalità Ma per loro Non lo è Quindi attenzione Ai nostri bambini Dedichiamogli Il giusto tempo E cerchiamo Di trovare Metodi E forme Per poter Sopperire A quello Che siamo A quello Che in loro In questo momento Stanno rinunciando Dottoressa Recigno La ringrazio Sempre Anche per Il calore Col quale Si esprime Attraverso La nostra emittente E ci sentiamo Quanto prima Se mai Fosse soltanto Per darci gli auguri Di un sereno Natale Di un ottimo anno nuovo Sempre Con grande piacere Grazie a voi Per avermi invitata Buonasera Dottoressa Grazie Grazie